Tag Heuer Carrera Calibre Heuer 01. Il capolavoro di Tag Heuer. Il Carrera Calibre Heuer 01 è un orologio che nasce dalla tradizione e dall'innovazione. Il nome Carrera si riferisce alla leggendaria corsa automobilistica Carrera Panamericana, che ha ispirato la creazione della prima collezione di orologi Carrera nel 1963. Il numero 01 indica il primo modello di una nuova generazione di orologi, che si caratterizza per il suo movimento cronografico automatico di fabbricazione propria, il Calibre Heuer 01. Questo movimento è il risultato di 5 anni di ricerca e sviluppo, ed è una delle più grandi innovazioni di Tag Heuer nell'ambito dell'orologeria. La cassa in acciaio inossidabile, disponibile in diverse finiture, ha un diametro di 45 mm e una forma simmetrica che conferisce all'orologio un aspetto dinamico e sportivo. Il quadrante è dotato di due contatori cronografici, quello sulla parte superiore indica i minuti cronografici, sulla parte inferiore le ore cronografiche e con la terza lancetta rossa i secondi cronografici. Il Carrera Calibre Heuer 01 in alcune versioni dispone anche di una finestra per la data ore 3. Gli indici e le lancette sono luminescenti, per garantire una perfetta leggibilità in ogni condizione di luce. Questo orologio ispirato al mondo delle corse automobilistiche offre la possibilità di misurare il tempo con precisione e stile. Il Carrera Calibre Heuer 01 è dotato di una funzione cronografo, che ti permette di cronometrare i tempi con una precisione di un quarto di secondo. Il cronografo è azionato da due pulsanti a forma di pistone, che si trovano sulla destra della cassa. Il pulsante superiore avvia e ferma il cronografo, mentre il pulsante inferiore azzera le lancette. La lunetta ha anche una scala tachimetrica, che permette di calcolare la velocità media in base al tempo e alla distanza percorsa. Il cinturino può essere in pelle, in acciaio inossidabile, o in gomma. Uno dei quadranti più particolari del calibre Heuer 01 è sicuramente quello scheletrato. La finitura scheletrata permette di intravedere il movimento al suo interno, rendendo questo orologio un vero pezzo di prestigio e unicità. Alcune versioni invece hanno un quadrante semplice con diverse varietà di colore, come il nero, il blu o il grigio. Se sei alla ricerca di un orologio di alta gamma che esprima la tua personalità e il tuo stile, non puoi perderti il Carrera Calibre Heuer 01. Grazie. 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 Grazie.